Exoractics, oggi andiamo insieme a scoprire questa fantastica Jeep Compass, motorizzazione 2000 diesel, 140 cavalli, cambio automatico, è una trazione integrale quindi 4 ruote motrici e l'allestimento è la Limited, l'auto è immatricolata a 2020 con 33.000 km. Abbiamo questa carrozzeria di questo colore grigio canna di cucile metallizzato, sensori di parcheggio anteriori, cerchi in lega diamantati raggio 18, lateralmente abbiamo retrovisor elettrici, sistema keyless, barre e portapacchi, nella parte posteriore abbiamo retrocamera e sensori di parcheggio, un comodo e pratico portellone elettrico con doppia panca reclinabile e luce di cortesia. Internamente troviamo queste sedute in pelle, comode e spaziose, preda 12 volte e bocchette d'aria. Nella parte anteriore abbiamo display touchscreen dove appunto gestire tutto l'infotainment, crema automatico bi-zona, trazione integrale da poter inserire, cambio automatico e un pratico bracciolo portaggetti. per avere maggiori informazioni seguici su ratix.com Grazie a tutti.